UMCS, azienda leader nel settore della movimentazione industriale, da oltre 15 anni con la vendita ed assistenza di carrelli lavatori, termici ed elettronici. UMCS è concessionaria dei marchi Piaggio, Toyota, D10 ed Eurocomac. UMCS lo puoi trovare in località Vattiato, zona industriale Cutro. UMCS è Danny Mendez, la testimonia d'eccezione per i 70 anni della Guglielmo Caffè. Bella, sorridente e genuina, caratteristiche che hanno spinto l'azienda calabresa a scegliere proprio lei fra le tante bellezze dello spettacolo. Dopo la conferenza stampa, che ha visto la showgirl in compagnia di Daniele Rossi e Matteo Tubertini, la Mendez ha strascorso il suo pomeriggio tra la gente, passeggiando per le vie della Galleria Commerciale Le Fontane, una vera full immersion per la Domenicana, che ha così avuto modo di entrare in contatto con il calore e la sensibilità dei calabresi.